Salve gente, bentornati su Arosan Eh già, è da un po' che non ci vedevamo eh Con questo video, dopo tanto tempo, vediamo come dire i mesi nella lingua giapponese Poiché sono molto facili da imparare, vi tuberò pochissimo tempo Massimo 2-3 minuti, giuro Non di più Come dicevo, imparare i mesi in giapponese è abbastanza facile Basta unire i numeri da 1 a 12 Con questo kanji che significa luna, tsuki Ma significa anche mese E in questo caso si legge gatsu Gatsu come il protagonista di Bursar Conoscete no? In pratica è come dire gennaio, mese 1, primo mese Febbraio, mese 2, secondo mese E ok, vediamo di tutti va Partiamo da gennaio Gennaio, ichi gatsu Febbraio, ni gatsu Marzo, san gatsu Aprile, shi gatsu Maggio, go gatsu Giugno, ro kugatsu Luglio, shi chi gatsu E non, nona gatsu Agosto, ha chi gatsu Per settembre abbiamo piccola irregolarità Si dice kugatsu e non kyugatsu In nove si pronuncia ku in questo caso Ok, stavamo a ottobre Il decimo mese Quindi giugatsu Novembre Giugici gatsu E infine dicembre Finiamo con dicembre Giunigatsu Come potete vedere E facilissimo Basta prendere il numero Che corrisponde al mese E piazzarci sto gatsu davanti Num più sto gatsu Se invece vogliamo domandare Che mese Vogliamo fare la domanda Si fa aggiungendo a gatsu nan Quindi Nan gatsu Che mese Ok, come promesso Due o tre minuti Ce l'abbiamo fatta Non voglio sforare con l'orario Quindi vi saluto E ci vediamo alla prossima Matanè Ah, come al solito Se vi piace il mio canale Vi consiglio di iscrivervi Mettere like Condividere O altro Alla prossima